Sarà un confronto lungo che potrebbe protrarsi anche fino a Natale quello all'interno della maggioranza ripostese del sindaco Enzo Caragliano che adesso è chiamato a dare una scossa alla squadra che lo supporta a vario titolo nell'azione amministrativa. E' ormai noto che buona parte della coalizione vuole che Caragliano tolga l'incarico da assessore ad Antonio Di Giovanni. In particolare i cosiddetti senatori della coalizione, i fratelli di Guardo, Francesco Grasso, Nino Facchi e Michele D'Urso ritengono esaurita la funzione dell'esponente del megafono all'interno dell'esecutivo. Per la verità e non da ora è sgradita ai senatori anche la presenza del vice sindaco Gianfranco Pappalardo Fiumara il quale però oltre a disporre di un proprio consigliere, il geometra Carmelo D'Urso ha anche un accordo personale blindato con Caragliano che garantisce il pianista fino al 2018 senza sé e senza ma. Discorso diverso per Di Giovanni che invece oltre che dalla presenza di Paolo Emanuele in consiglio era garantito da un'intesa con il megafono catanese che con i mesi si è andata affievolendo. Come noto il sindaco Caragliano sta provando ad avvicinarsi all'articolo 4 di Luca San Martino e Valeria Sudano. Per strutturare questa partnership sarebbe necessario l'ingresso in consiglio comunale di Orazio Quattrocchi primo dei non eletti della lista che nel 2013 portò in consiglio Paolo Emanuele e Saro Cerra. La prima se Di Giovanni salterà da assessore non avrebbe più motivo di restare in maggioranza. Resta remota l'ipotesi di vedere la Emanuele assessore dimettendosi da consigliere. Resta piena di ostacoli l'opzione Cerra assessore Quattrocchi consigliere per due ragioni. Saro Cerra non sembra disposto a dimettersi da consigliere e se dovesse entrare in giunta vuole farlo da protagonista e non da comprimario. Uno spazio politico che Caragliano in questa fase non gli può concedere. Caragliano che non è neanche convinto appieno dell'opportunità di far entrare in consiglio Quattrocchi che sì uomo di Luca San Martino ma anche di Carmelo Spitaleri. Caragliano teme che Quattrocchi possa una volta consigliere non entrare in maggioranza ma restare in orbita futura diventando la spalla perfetta di Ezio Raciti. Enzo Caragliano sa che non può concedersi passi falsi se vuole ricostruire un progetto politico per il 2018.